Nello scorso fine settimana è tornata protagonista ad Arezzo la musica corale italiana, grazie ad una iniziativa dell'Associazione Insieme Vocale Vox Cordis, che nell'anno in cui festeggia il 25esimo anniversario, in partenariato con altre realtà del territorio aretino e nazionali, ha dato il via all'Accademia Corale Italiana diretta dal maestro Lorenzo Donati. Circa 80 gli iscritti provenienti da tutte le regioni italiane. Il coro Vox Cordis ha proposto e propone questa Accademia Corale che parte proprio con una serie di masterclass che si svolgeranno durante tutto l'anno e sono masterclass che sono in collaborazione con tante realtà del territorio nazionale, alcune si svolgeranno da Arezzo, altre anche da altre parti d'Italia. Hanno riunito un bel numero di iscritti, in questi giorni sono stati 34 i direttori che sono stati qui ad Arezzo a lavorare con quattro docenti differenti. Sono direttori che arrivano da tutte le parti d'Italia, di varie estrazioni, sono giovanissimi e anche direttori più esperti che vengono ad aggiornarsi cantando e dirigendo un coro come Vox Cordis, che è un coro d'esperienza. Il coro Vox Cordis In questi giorni hanno studiato in vari corsi differenti, tutti e 34 i direttori partecipanti all'Accademia, però chiaramente ognuno fa un corso diverso. Il corso che si conclude qui a San Michele è un corso che ho tenuto io sulla musica antica rinascimentale e hanno seguito questo corso 12 studenti effettivi, che sono quelli del quarto e del quinto anno. cuopi Vox Cordis Grazie a tutti.